ciao amiche oggi vediamo qualche idea ma veramente facilissima per le decorazioni pasquali per fare dei segni a posto oppure per decorare l'albero di pasqua e così via la prima idea che vi faccio vedere si fa con il pannolenci senza cuscire quindi estremamente facile praticamente questo è l'occorrente poi in realtà potete usare tutto quello che volete vi consiglio di utilizzare un pannolenci diciamo morbido non troppo spesso e nel mio caso è decorato ma va benissimo anche se avete pannolenci di un unico colore io utilizzo questo cartamodello che poi vi lascio anche nella descrizione del video e lo riporto qui per evitare di lasciare segni con la penna pennarelli ed altro si può ritagliare direttamente così con delle forbici piccoline ecco si va proprio attorno a questo cartamodello cioè a qualche millimetro un millimetro un millimetro e mezzo qui per le orecchie metto un altro spirito comunque avete capito devo ritagliare così ritaglio tutta quanta la sagoma ci siamo tolgo questo e rimetto gli spilli proprio qui al centro vedete sui due lati rimani gli spilli li metto qui al centro adesso dovrò applicare qui la colla lasciando questa parte aperta io utilizzo la colla a caldo ovviamente se avete se avete altri tipi di colla la potete utilizzare tranquillamente la colla si applica così una quantità non eccessiva proprio sul bordo quindi schiaccio attenzione al piano di taglio perché si rovina bisogna proteggere il piano con un foglio e e poi su quest'altro lato si procede allo stesso modo schiaccio quindi come vedete estremamente semplice vi ripeto questa parte non la non la incollo quindi resterà un forellino qui in alto ed un foro qui in basso un pochino più grande fare un cappietto qui fate della misura che vi necessita con uno spago un nastrino insomma con quello che preferite e poi ovviamente si dovrà inserire qui all'interno quindi se fate con uno spago fate anche un nodino così a una maggiore presa ecco qua sistemato ecco qui e quindi testa proprio così qui in basso inserisco l'imbottitura ovviamente se ne volete mandare un pochino dentro l'orecchio però secondo me non è necessario così le orecchie restano un pochino più morbide quindi chiudo qui in basso tiro semplicemente così ecco qua allora questo è già decorato però posso mettere spago fiocchi ecco questi fiocchi qua mi vado a sistemare proprio qui le lunghezze ovviamente decidete le voi quanto fare grande il fiocco come sistemarlo a me piace l'idea ecco di combinare i vari nastri e lo spago non la toglie che potete aggiungere se fate con del pannolenze più semplice potete aggiungere anche altri tipi di decorazione questo dipende un pochino dal vostro gusto quindi ecco fate questo tipo di decorazione lo potete appendere oppure mettere come sulla tavola oppure potete inserire uno stecchino qui alla base proprio nella parte finale e metterlo all'interno di un cestino è guardate che carino avete visto ci vogliono veramente pochissimi secondi per farlo vi faccio vedere adesso la versione invece da fare con il tessuto potete scegliere un tessuto basico cioè semplice con un unico colore a quadretti a righe eccetera eccetera oppure un tessuto un pochino più elaborato in questo caso vi consiglio di fare una decorazione molto semplice come in questo caso qui qui invece dovete prevedere una decorazione un pochino più ricca proprio per dare diciamo per valorizzare di più l'oggetto per questo lascerò i bordi a vivo quindi il tessuto ripiegato così come ho fatto anche prima per il pannolenze e riporto questo qui la sagoma al di sopra allora bisogna utilizzare una penna che andrà via poi con il calore oppure con l'aria di queste cancellabili che si trovano anche in cartoleria e riporto per bene la sagoma adesso effettua la cucitura proprio su questa linea vale lo stesso discorso di che abbiamo fatto prima quindi si può inserire all'interno un cappietto se lo vogliamo appendere in quel caso si sistemerà qui in alto oppure comunque in ogni caso dovrò lasciare qui in basso un'apertura per risvoltare farò una cucitura proprio su questa linea qui la posso fare a mano o con la macchina per cucire senza alcun problema questo invece va sistemato proprio su questo punto quindi lo sistemo così eccolo qua sistemato proprio in questa posizione fate attenzione a sistemarlo proprio così per bene ok questo deve rimanere così al centro e quindi si procede con questa cucitura semplicissima con il punto dritto inizio la cucitura proprio qui dove ho marcato blocco il punto e vado sulla linea quindi la curva la seguo così per bene qui ago in basso giro e seguo di nuovo la curva ora elimino l'altro spillo spingo per bene verso questa cucitura e passo almeno due volte e poi continuo il percorso fino alla fine quindi allo stesso modo stesse considerazioni qui faccio attenzione al cappietto lo sposto e poi procedo quindi prima di fare qualsiasi operazione vado con il ferro da stiro e con delle forbici a zig zag oppure con le forbici normali questo eccesso di tessuto lasciando tipo mezzo centimetro tutto attorno io preferisco fare così è qui si fa attenzione al cappietto ecco qua e adesso vado così ovviamente di qua si fa allo stesso modo ecco qui insomma per dirvi che è veramente facile quindi elimino questa cosa qui e anche in questo caso imbottisco allo stesso modo mettete sempre delle quantità molto piccole di questa imbottitura e poi si può spingere vediamo se riesco a mandarla fino alle orecchie ecco qua più o meno la stessa quantità la inserisco nell'altro orecchio ecco qua vedete sistema uno spillo a circa un centimetro e faccio questo tratto di cucitura qui blocco e procedo lo spillo a tenuto lontano l'imbottitura allora userò questo nastro che in qualche modo richiama il colore faccio questa finitura ecco posso fare un doppio modino solo per creare questo e poi al di sopra posso fare invece un fiocco in maniera estremamente facile così e avvolgerlo per esempio con questo nella zona centrale ma questo è proprio stringo il nodo così ecco qua faccio questo anzi lo faccio subito e decorazione insomma le dovete fare mano a mano ecco qui eccola qua mi raccomando prendete una penna che si cancella non come questa che ho usato io guardare anche questo che carino estremamente semplice l'ultima versione che invece voglio mostrarvi è senza il bordo a vivo allora in questo caso scegliete possibilmente un tessuto leggero mettete dritto sul trezzo e riportate la sagoma quindi sul retro del tessuto in questo modo come abbiamo fatto anche prima e quindi si fa una cucitura proprio su questa linea qui si lascia un'apertura procedimento identica quello di prima cioè con un punto della lunghezza di 2 2,5 mm si passa proprio sulla linea tracciata e poi con le forbici a zig zag si elimina questo eccesso in questo caso però prima di girare quindi tolti gli eccessi si lascia circa mezzo centimetro si devono fare dei taglietti proprio fino alla cucitura qui dove ci sono questi cambi di direzione acqua quest'angoletto guarda si deve arrivare praticamente alla cucitura qui e qui e quindi si gira sul dritto ecco qua prima cerco di tirare fuori le orecchiette con le mani e poi vado con le forbici o con qualche altro strumento non troppo appuntito ed ecco qua ok il coniglietto è pronto per essere imbottito quindi come prima sempre lo stesso tipo di imbottitura sempre allo stesso modo qui per chiudere l'apertura dopo aver imbottito posso mettere anche un puntino di colla a caldo oppure di colla normale e chiudere così oppure fare un punto a mano e quindi si procede alla decorazione io utilizzerò questo decoro qui che poi è una bomboniera molto molto carina che mi dispiaceva insomma di togliere quello metto un puntino di colla della applico così e guardate che meraviglia che è questa questo coniglietto è lo potete fare anche più grande per decorare insomma la vostra casa ecco qui le tre versioni quindi senza cucire oppure con una cucitura fatta a mano con un punto filza semplicissimo in pannolenci quindi veramente lo potete fare tutte quante prendendo un pezzo di pannolenci e poi decorandolo a piacere ok se più ricco il pannolenci potete fare una decorazione più semplice oppure arricchirla insomma veramente vi potete sbizzarrire si può fare in tessuto allo stesso modo con una cucitura a mano oppure con la macchina per cucire e vedere anche qui con un semplice fiocchetto lo possiamo poi appendere o insomma usare in altro modo e questo invece è sempre in tessuto ma con la cucitura che rimane all'interno e poi applicata questa decorazione spero di avervi svelato diciamo tutti i trucchetti per fare queste decorazioni per pasqua che sono carine che ne so da appendere all'albero di pasqua molte di voi so che lo fanno oppure per chiudere un pacco per che ne so per decorare la tavola di pasqua insomma pensate voi fatemelo sapere poi nei commenti come pensate di utilizzarli vi ricordo che questa semplice sagoma la trovate nella casella delle informazioni si scarica gratuitamente quindi guardate sempre qui dove ci sono le informazioni del video vi mando un abbraccio grandissimo e vi aspetto ovviamente al prossimo tutorial non siete scritte iscrivetevi perché è completamente gratuito ciao 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 a presto ciao ciao a presto ciao a presto ciao a presto